Ripristinare il tavolo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, questa la richiesta dei tre sindacati confederali CGL, CISL e UIL alla prefettura di Arezzo. L'ultimo incidente sul lavoro in provincia di Arezzo nelle scorse ore. Un operaio di 62 anni è precipitato da un traliccio dell'alta tensione ed è rimasto ferito. A prendere che a 62 anni, indipendentemente dalla prestazione fisica che si può avere a 62 anni, si possa lavorare in tranquillità a 25 metri d'altezza e nell'alta tensione, credo che questo sia un tema. I sindacati chiedono la riattivazione del tavolo sulla sicurezza nel quale inserire anche il mondo della scuola. Visto che purtroppo tra i vari incidenti mortali che si sono verificati in questo paese negli ultimi periodi c'è anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro che ha visto purtroppo incidenti mortali, quindi quello è sicuramente un elemento da aggiungere. La sicurezza non può essere considerata come un costo, dicono con forza i sindacati, eppure oggi è tutta a carico delle aziende. I costi devono essere in qualche modo, semmai presi a carico da parte dello Stato, non può essere certo un costo del lavoratore, quindi è questo che chiediamo anche allo Stato. Quando chiediamo non solo le norme, che le norme ci sono, chiediamo un investimento da parte degli enti preposti in maniera che siano a carico anche dello Stato. Cioè lo Stato non può pensare che questo sia tutto delegato sulle spalle di lavoratori e aziende. Lo chiediamo da tempo e l'aggravamento di quelle che sono, anche sotto l'aspetto penale, delle responsabilità laddove si riscontrano morti sul lavoro, inserendo addirittura, non è tanto una provocazione, ma lo pensiamo veramente, l'omicidio sul lavoro.